Ciao a tutti, oggi sono con Giulia, Gregor e Amminili, stavo andando alla ricerca di un po' di fogliage. Abbiamo beccato pure un po' di cloud inversion nello salire, che sarebbe quando le nubi sono più basse, cioè tessere più alto delle nubi. Oggi la meta sono i trefaggi da parte dell'acquedotto Paese Gerosa, poi andate verso la località Mulini Alti e da parte dell'acquedotto parte il sentiero per i trefaggi che non dovrebbe essere molto lungo. Potrebbe far fresco oggi però ho pantaloncini, file, giacca, tutto quello che si può mettere. E dopo andiamo a mangiare in Baltaleggio, che ero già stato l'anno scorso con Willy, e andiamo a farci un giurato anche oggi per cercare un po' di polenta tarania. Quindi ci vediamo tra le foglie autunnali. Ciao! 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 Siamo o mai, le nubi ci hanno raggiunto, siamo in mezzo al bosco con tutte le nubi, non vediamo, vediamo però diventa un po' buio e abbiamo visto appena adesso una salamandra forse ho messo qualche video qualche foto prima senti non l'abbiamo mai fatto molto stretto molto anche pericolante però dovremmo essere giusti abbiamo visto pieno di indicazioni comunque c'è pieno di funghi c'è qualche vegetazione autunnale stavo mirando di là vabbè e andiamo alla scoperta di questo gruppo Cosa dite? siamo arrivati o no? noi non capiamo molto potremmo passare accanto a tre faggi ma non li vedremo neanche Giulia non si vede neanche più la dietro siamo finiti proprio nella nebbia nebbia speriamo si alzi tra un po' perché non vediamo cioè vediamo ma davanti al nostro naso e basta perdo anche gray willy tra poco guarda che non è un cane ma secondo me potrebbe tranquillamente non essere un canide in generale anche se l'ho sentito così all'improvviso questa è la bella vista dei tre faggi bella raga no comunque oggi molto nebbioso come avete visto anche nei video però bello l'ambiente perché ci sono i tre faggi tutti autunnale con sotto il laghetto il riflesso poi qua c'è una sorta di santuario, cimitero abbiamo sentito prima un ululato però abbiamo visto adesso probabilmente era un cane sorpresa ci siamo imbaccuccati stiamo qua un attimo sperando non sole ma non credo che esca siamo proprio in mezzo alle nubi e dopo torniamo giù e andiamo a mangiare come è stata la salita per voi? tranquilla bella tranquilla non la cambio quando andiamo a mangiare qui sono i tre faggi aspettate che basso sto telo qua questi qua sono i tre faggi vedete lì c'è anche il laghetto tutti belli autunnali ci vediamo tra poco allora lì come potete vedere c'è la Rera di là invece abbiamo Resegone le prossime gira che dobbiamo fare qua sotto c'è Gerosa un bel panorama oggi molto simpatico io sono un Wreck senza te qui io sono un Wreck senza te qui io sono un Wreck io ho provato questo tutto dietro mi io credo che ho Wreck tutto questi giorni quando sono sul brinco dell'interno ricordate le parole che hai detto non ci vediamo non ci vediamo non ci vediamo dopo aver cambiato la batteria faccio il video di chiusura siamo arrivati alla macchina ci stiamo cambiando poi andiamo a mangiare abbiamo fatto un'oretta e mezza di discesa giusto adesso si sta aprendo il cielo adesso che siamo arrivati su però va bene tanto comunque è stata bella i colori autunnali c'erano abbiamo visto due salamandre tre faggi e rombelli magari c'è da tornare la prossima volta col sole e ora andiamo a mangiare speriamo di trovare del cibo buono casereccio